Musica Promossa la Camera di Commercio di Napoli, l'ente camerale partenopeo ed il suo vulcanico presidente Maddaloni sono riusciti nell'impresa di riportare a Napoli le regate della Coppa America, strappandole a Venezia. Non a caso la Casa delle Aziende Napoletane ha deciso di sostenere a CN la società di scopo creata per l'America's Cup, a cui mancava lo smalto e la grinta di Maddaloni, uno dei pochi esponenti reali del fare. Bocciata Anna Donati, l'assessore comunale alla mobilità nell'ambito della presentazione del progetto Smart City, si è negata ai nostri microfoni per non affrontare l'imbarazzante argomento della mobilità insostenibile. L'assessore ha guadagnato l'uscita in sordina dalla sala per non spiegare ai nostri microfoni cosa vi sia di intelligente nella Smart City made in Napoli.